Qualcuno ha scritto che la musica è la voce dell'anima e questa partita è un po' la colonna sonora della nostra vita. Milan Juve, con questi suoni ci siamo cresciuti. La tensione è sempre altissima, lo spettacolo non manca mai. Atmosfera carica, ritmo che cresce, bpm che aumentano, un sound travolgente dove i dettagli fanno la differenza. Non vi resta che alzare il volume, il prossimo pezzo è sempre Milan Juve.